I recenti fatti di cronaca che si sono verificati a Salerno hanno spinto le forze dell'ordine ad incentivare sia i controlli che la presenza di agenti e militari in strada. Ieri uomini della Polizia di Stato, della Questura Salernitana e del Reparto Prevenzione e Crimine della Campania di Napoli, con l'apporto della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli nei quartieri di Pastena, Torrione e Mercatello. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo per identificare persone e controllare veicoli. Verifiche sono state effettuate anche in alcuni luoghi di ritrovo giovanili. Complessivamente sono state identificate dagli equipaggi 118 persone, di cui 39 risultate positive alla banca dati. Una persona è stata indagata in stato di libertà. Sono stati controllati 59 veicoli, elevati 6 verbali di contravvenzione al codice della strada, redatte specifiche segnalazioni all'autorità giudiziaria per due persone inottemperanti alle prescrizioni derivanti dalle misure di prevenzione ad essi inflitte. In particolare un sorvegliato speciale di 37 anni è stato sorpreso mentre era in compagnia di un altro pregiudicato. Beccato anche un uomo che doveva essere agli arresti domiciliari. Sono state effettuate inoltre 4 perquisizioni nei confronti di persone sospette e la Polizia Municipale ha controllato 20 veicoli elevando 5 verbali per infrazioni al codice della strada.